Un carro funebre, un'ambulanza e un taxi hanno accolto 80 ragazzi del liceo Cavour di Torino nel cortile di Palazzo Lascaris. Il motivo è la presentazione della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale Decidi tu come tornare a casa, hashtag sicuro e morto, promossa dal consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con Polizia Stradale, Associazione Vittime della Strada e Croce Rossa. Un incontro che con testimonianze, esempi, video e test ha voluto colpire i ragazzi dritto alla pancia per fargli capire le conseguenze che possono esserci con una guida distratta e in violazione delle norme stradali. Il messaggio che vogliamo dare ai ragazzi è questo, ricordatevi che questo aspetto ha due facce della medaglia. Voi trascurate la seconda, la seconda sapete qual è? E gli effetti della vostra disattenzione, cattiva conduzione di un mezzo sui vostri genitori, in particolare vostra madre. Sappiate che la condannate per tutta la vita a un dolore infinito. Quindi riflettete non soltanto sulla vostra vita, ma anche sulla vita della persona che vi ha dato la vita. Nel 2019 sono stati 4.441 gli incidenti stradali in Piemonte, 70 hanno lasciato sulla strada delle vittime. La prevenzione diventa fondamentale e il rispetto delle regole può salvare la vita. Ragazzi attenti perché la strada è un luogo frequentato moltissimo e quindi le insidie sono tante. Quindi il rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada. Un incontro, che si spera, abbia lasciato nei ragazzi la consapevolezza di quanto sia importante salvaguardare la propria incolumità e quella degli altri. Penso che sia doveroso da parte dello Stato anche istituire più attività che coinvolgano i giovani, che li istruiscano affinché non compiano questi errori. Sicuramente l'educazione stradale aiuta, poi bisognerebbe ridurre il consumo di alcol oppure affidarsi a un amico responsabile, a una persona che non assume sostanze, ad esempio durante una serata con gli amici, oppure appunto prendere il taxi è una soluzione molto valida. Dall'inizio dell'anno scolastico la polizia stradale ha incontrato circa 1600 ragazzi. Gli incontri proseguiranno fino alla chiusura delle scuole. Grazie a tutti.